UBER presenta importanti novità, quali le principali? Allora, quest'anno presentiamo la gamma di prodotti Wizard, che è una gamma completa di elettrodomestici connessi via Wi-Fi e controllabili attraverso un'app che funziona sia per Android che per iOS e per Windows PC. La seconda grande novità che presentiamo è la lavatrice da 13 kg mega in dimensioni standard, quindi la lavatrice col massimo carico disponibile in dimensioni standard. Insieme a lei una lava asciuga da 13 kg di lavaggio più 8 kg di asciugatura. A supporto di queste novità ci sarà una campagna pubblicitaria? Sì, supporteremo il lancio di Wizard con un sito internet dedicato, una campagna digital su tutti i principali mezzi e con un forte investimento sul punto vendita che aiuti il consumatore a vivere l'esperienza di avere un elettrodomestico connesso. A quanto ammonta l'investimento nella campagna pubblicitaria e da quando partirà? La campagna pubblicitaria partirà dal secondo semestre quando avremo tutti i prodotti disponibili sul mercato. Nello specifico il budget non è ancora stato definito, diciamo che in totale per il mercato italiano abbiamo all'incirca 7 milioni di euro tra tutto, tra above the line e below the line, quindi copertura dei punti vendita. Per quanto riguarda il mercato italiano, Uber che posizione occupa? Allora, Uber sul mercato italiano è tra i leader nel piccolo elettrodomestico e diciamo che nella posizione di un posizionamento premium nel grande elettrodomestico di conseguenza coniuga una quota di mercato che ha volume intorno al 3,5% ed è circa il doppio valore. Al prossimo episodio Al prossimo episodio